Si profilano nuove emergenze rifiuti. Il segretario provinciale Lega Salvini Premier di Salerno, Mariano Falcone, in una nota evidenzia. Il termovalorizzatore di Acerra è e sarà interessato da ulteriori attività di manutenzione con il fermo parziale, quindi il rallentamento nei conferimenti della frazione secca da parte di tutti gli impianti STIR. Di saggio, sottolinea Falcone, al TMB di Battipaglia, che accoglie l'indifferenziato dei comuni della provincia di Salerno che sono già al momento straripanti di rifiuti non conferiti, e ciò per le problematiche connesse alle continue attività manutentive del termovalorizzatore di Acerra. Preoccupa a prendere, scrive Falcone, che l'amministrazione regionale inviti le società degli STIR a provvedere all'allestimento di ulteriori piazzole di stoccaggio provvisore, onde aumentare la capacità di stazionamento dei rifiuti, quando in contesti quale quello di Battipaglia la quantità degli stessi presenti all'interno dell'impianto e non regolarmente smaltiti già è oltre ogni livello di ragionevole tutela dell'ambiente e del vivere dei cittadini. La Lega si rende promotrice di un tavolo di confronto con tutte le amministrazioni comunali e di referenti territoriali per affrontare e vagliare ogni problematica. Falcone conclude, attraverso un approccio propositivo e volto alla necessaria e urgente prese di coscienza da parte degli organi preposti riguardo ad una problematica non più procrastinabile.